Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi Siamo sulla carriera di allenatore Con Cittadella Stiamo contro il Salerno Oggi per prima volta forse useremo La maglietta gialla Poi faccio dei cammi Mettiamo bene le lette E basta Andiamo in partita Ne dobbiamo sterminare 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 perché Perché siamo Di un punto di stacco Tra l'uno Non sono tre Noi siamo due Quindi ragazzi Proviamo a A vincere sta partita Ma la parola perdiamo proprio con il tiro mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia bellissima la stanza no se la ricombra panico panico no no non ci credo no non so bene la pronuncia di au fa lo nostro no 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 noi la palla di paleari lo sbagliato a paleari lo sbagliato a paleari qui che cosa ho fatto test attenzione no tutto qua tutto fallo di test è arrivato è arrivato il cartellino ma dicere che mi sembra sacro santo si pia luigi non accenda nemmeno la protesta attacco attenzione al movimento dei compagni attenzione e questo non è un foglio lo sbagliato Tutto Ness Poi vintare Osa a tutti benedetti corre sulla face prendila di testa la presa d'ulso panico panico paura panico no vai a capizzi buona lettura dell'azione intercettato bene il passaggio durci branca branca vabbè vantaggio attenzione iori parto palpini panico 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 pros panico 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 adesso panico adesso panico adesso ricordi mi ha preso la palla si ma dopo le ha preso anche le gambe nettamente padroni di casa che sono sotto di una rete a pochi minuti dal termine si sembrano crederci ancora quando a disposizione per tutto bene tutto buono cosa succede ho tirato fu a bar 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 8 minuti più recupero spazio 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 attenzione c'è il tiro c'è il gol del cittadella del salerno spettacolare piacere molto di testa grande precisione grande stacco grande tempismo hanno parecciato dunque 1-1 la sua attenzione può rimontare del tutto può rimontare del tutto vediamo cosa ci riserverà l'extra time no stavo andando ma guarda sempre così sono sconvolto a 5 minuti dalla fine queste insegnano 5 minuti dalla fine poi queste partite 1-1 2-1 2-2 vabbè ragazzi ci salutiamo con un brutto con un brutto pareggio abbiamo fatto tre partite tra punti quindi ragazzi sono davvero sconvolto anzi vi saluto quindi ci vediamo un po' su noi dove ciao